Nuova vita per gli affreschi di Benozzo Gozzoli custoditi nella chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano. A renderlo possibile l'avvio del progetto di restauro, dopo che proprio dalla città turrita era partito l'allarme per il pericolo imminente della perdita definitiva delle scene della vita di Sant'Agostino, dipinte tra il 1464 e il 1465. Una bellissima notizia per quanto riguarda San Gimignano, ma direi per tutto il mondo intero verrebbe da dire che qui siamo al cospetto del più importante ciclo pittorico sulla vita di Sant'Agostino realizzato da Benozzo Gozzoli. E' un tengo a sottolineare che è stato ed è un lavoro di squadra quello che comincia oggi, frutto della sinergia fra Ministero e Sovrintendenza, Comune di San Gimignano, ma anche tanti singoli cittadini, tante associazioni, tanti singoli professionisti che insieme a noi hanno lanciato il grido di allarme sulla conservazione di questo Stato. Un intervento reso possibile grazie al primo stanziamento da parte del MIBACT di 200.000 euro per la messa in sicurezza degli affreschi e l'indagine statica della struttura della chiesa. Un restauro conservativo mirato al salvataggio della pelle, del colore di Benozzo Gozzoli e anche in parte della struttura sottostante l'intorno tramite delle iniezioni di malte idrauliche e di particolari resine che andranno a fermare e consolidare i bordi di queste lesioni che si sono verificate. Una buona notizia quella del recupero degli affreschi san-gimignanesi che non è una vittoria per il solo territorio sinese, ma per tutta la Toscana. Questo è considerato uno dei cicli di affreschi di Benozzo Gozzoli più importanti e sappiamo il ruolo che nella storia dell'arte del Quattrocento, quest'autore ha avuto, arrivò a San Gimignano subito dopo aver realizzato la più famosa Cappella Medici a Firenze e in qualche misura segnò una vera e propria svolta nell'arte appunto di questo territorio che fino a quel momento aveva gravitato sostanzialmente su Siena.